Sono in 10 al via dopo il ritiro del numero 6 Clinton RG All'1 Carlo Magno All'2 Candelario All'3 Ciocca di Gaia All'4 Camelot All'5 Carolina Die All'7 Prince CS Suona fila 8 Corsaro WF 9 Carlos degli Olivi 10 Crauno P 11 Corrado Jet Non corre con il 6 Clinton RG Gioco orientato su Prince CS Quando la macchina si è già messa in movimento Allineamento ancora abbastanza in divenire Ora arrivano un po' tutti a rete Ai 100 e poco più dallo stacco Con la macchina che accelera C'è l'errore per Camelot Prince CS che prova ad andare su Carolina Die Operazione che riesce Tanto ha sbagliato anche il numero 1 di Carlo Magno Con Prince CS leader nei confronti di Carolina Poi Candelario Quindi ancora Ciocca di Gaia A precedere Corsaro WF In una lunga fila indiana 400 che Prince CS è completa Nell'ordine di un 30 abbondante E davanti alle tribune Continua a comandare Prince CS Ora si è mosso Candelario Che va in caccia del Battistrada I 600 passati in 45,7 Si va così sulla piegata di destra La schiena di Candelario è stata presa Da Corsaro WF La corda c'è sempre Carolina Die Poi si muove anche Ciocca di Gaia Quando siamo ora dopo il paletto di metà gara Con Candelario che ha raggiunto Prince CS Lo mette sotto pressione al chilometro Che viene passato nell'ordine dell'1,16 Con Prince CS che deve reagire a Candelario Più indietro c'è ancora Corsaro WF Che si fa minaccioso Quindi Carolina Die Che viene avvicinata da Crauno P Quando siamo adesso al completamento della piegata Si scopre in terza Corsaro Perché intanto Candelario continua il suo pressing Sul leader Prince CS Prince che reagisce lungo la corda Corsaro che sembra il più fresco E va sui due davanti Corsaro WF che attacca Sopra avanza Candelario E va in caccia di Prince CS Quando mancano 100 al traguardo Con Corsaro che attacca a fondo Prince CS Il quale però replica e si salva Dal fondo di Corsaro WF E viene a concludere da vincitore Con rispettatosi il ruolo di favorito In testa da un capo all'altro Prince CS Dario Battistini Conquistano il successo Su comunque positivo Corsaro WF Io ho 1,59,9 Due minuti sul cronometro 1,15 la media Per Prince CS Dario Battistini Guida e training I colori della scuderia Black Stable AB Per questo figlio di Loviu Che è riuscito a sciolare al comando E poi Atene a bada I tentativi di rimonta Di Corsaro WF Che giunge a un'incollatura Mentre per il terzo posto Rimane ancora in debita quota Il numero 2 di Candelario 7,8,2 L'ordine di arrivo Di questa sesta Dalle Capanelle Grazie Grazie